Partono i lavori di riqualificazione di Piazza Regina Margherita e Largo Tunisia dell'Aquila, finanziati dalla Fondazione Carispaq. Dopo l'approvazione del progetto da parte della Giunta Comunale, il Sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi e il Presidente della Fondazione Carispaq Taglieri hanno sottoscritto la convenzione che consente l'avvio dei lavori. Il progetto di riqualificazione di entrambi gli spazi urbani è stato donato alla Fondazione dallo studio di Ingegneria e Architettura 2 Studio, dall'ingegner Francesco Giancola e dall'ingegner Alessia Rossi, che curerà anche la direzione dei lavori, mentre il progetto di restauro della facciata e della fontana del Nettuno è stato ridatto e messo a disposizione dalla sovrintendenza. Piazza Regina Margherita, con il restauro della facciata e della fontana voluta anche dalla sovrintendenza, e il resto completato e curato dalla fondazione Cassa del Risparmio rende questa realtà ancora più bella e completa. La piazza naturalmente viene restituita agli antichi albori, alle antiche bellezze e alla fine darà a questa parte della città così completata con il palazzo della fondazione il parco e questa piazza Margherita e il torrione un contributo importante della fondazione. I lavori presentati rappresentano il lotto conclusivo del più ampio programma di interventi che la fondazione Carispa ha deciso di sostenere e promuovere per riqualificare l'ingresso nord del centro storico dell'Aquila. Il programma è volto al recupero di importanti beni culturali anche nell'ottica di favorire la rivitalizzazione del centro storico e come si ricorderà ha preso il via con la riqualificazione del parco del castello.